E' successo lunedì a Roccavione, a pochi chilometri da Cuneo. Un uomo, classe 1953, si è recato a casa della sorella mentre quest'ultima si stava preparando per recarsi come ogni giorno sul luogo di lavoro. L'uomo, non nuovo a litigi per motivi di eredità, forse a seguito di un eccesso d'ira, si è intrufolato furtivamente all'interno dell'abitazione della sorella per poi aggredirla alle spalle, colpendola numerose volte con un piede di porco che si era portato al seguito, allontanandosi subito dopo averla lasciata esanime in un lago di sangue, convinto di averla uccisa. L'assenza dal luogo di lavoro della donna è stata notata da alcune colleghe, che dopo aver insistentemente cercato di contattarla sul cellulare, insospettite dalla mancata risposta nonostante il telefono suonasse, si sono recate presso l'abitazione della malcapitata, facendo la macabra scoperta ed allertando immediatamente i soccorsi. La donna veniva immediatamente trasportata presso l'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, dove si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Le immediate e tempestive indagini conseguenti, condotte dai carabinieri della compagnia di Borgo San Dalmazzo, davano presto i risultati sperati. Infatti, attraverso l'incrocio delle testimonianze acquisite e dai riscontri emersi a seguito di un primo rapido sopralluogo all'interno dell'abitazione della vittima, durante il quale si accertava l'assenza di segni di effrazione e che nessun monile in oro era stato asportato, le indagini si indirizzavano nei confronti del fratello. In breve, i militari ricostruivano la dinamica degli eventi, rintracciando il soggetto che nel frattempo era rientrato all'interno della propria abitazione. Accompagnato in caserma ed incalzato dai carabinieri del nucleo operativo della stazione di Borgo San Dalmazzo, quest'ultimo, poco dopo, confessava, indicando agli inquirenti anche il luogo dove aveva gettato l'arma del delitto, ancora sporca di sangue. L'uomo, una volta espletate le formalità di rito, veniva poi tradotto presso la casa circondariale di Cuneo, a disposizione dell'autorità giudiziaria.